questo signore che è un angelo non è un signore per la seconda volta sta facendo pescare lorenzo con la sua canna e ha boccato un pesce e non è una remore questa volta e dovrebbe essere se siamo fortunati la femmina del tonno così recupera solo quando mangiù la canna attenzione non fate intruppare vai avanti vai avanti vai indietro cammina passa sopra le persone pure se te stanchi non molla recupera solo quando la canna vai in giù ma in destra vai a destra perché ti fa stancare il pesce bravo la rush ma avvicinati non so che stai a fare uno sforzo ma dai attenzione a quello che dice lui quando tiri su non troppo forte strappo è gradualmente dire su bravo e quando recuperi che la canna scende veloce quando tiri su gradualmente se non strappe il filo ora questo è quello lì non è una remore ti indica dove sta passando il pesce avvicinati vai da sinistra va sotto eccola sta aiutando a tirare da su wow femmina del tonno vai tira su tienilo in tiro tienilo in tiro aspetta fermo fermo così rimani così non ti muovere questo è un tonno è la femmina del tonno è la femmina del tonno è la femmina del tonno scusami sta marchionando dal bordo è morto grazie grazie questo signore è veramente un angelo nella vita si incontrano è lui wow tonno wow tonno wow thank you so much guy hai pescato il tonno Lore la moglie del tonno bravo Lorenzo tirava tanto Lore era forte eh thank you so much sir thank you so much you are angel no man ciao ciao ciao